Era il 29 settembre 2019 e quella rissa in piazzetta Ruffini, pieno centro, a Termoli, sconvolse un'intera comunità. Un 49enne di Modena, pestato a sangue quando erano circa le 4.40 del mattino e la città era deserta, fu ricoverato in gravi condizioni al Santimotio. Gli agenti del commissariato da quel momento hanno avviato indagini scrupolose e precise, identificando gli autori di quella che è stata un'aggressione senza precedenti. Ad assalire il 49enne sono state 6 persone, le indagini ora sono chiuse e i 6 sono indagati a vario titolo per lesioni personali o missioni di soccorso con l'aggravante di aver agito in gruppo e per futili motivi. Hanno tra i 21 e i 54 anni e sono tutti di Termoli, 3 di loro sono zingari volti noti in città con precedenti specifici per droga. Un quarto lo stesso uomo che il 22 gennaio 2019 investì uccidendolo lungo via martire della resistenza Donato Rubortone di 52 anni. Un quinto è indagato a precedenti per droga e rapina e il sesto invece è incensurato. Gente conosciuta i cui nomi spesso hanno riempito le pagine di cronaca, il pubblico ministero del Tribunale di Larino a fronte delle risultanze investigative emerse dalle indagini della polizia non a dubbi, sono i responsabili di quel billepestaggio nato per una scommessa. Quella sera infatti, secondo quanto ricostruito subito dopo i fatti, i 6 sfidarono il malcapitato ad una scazzottata singola, mettendo in palio 50 euro. Il primo pugno è in pieno volto e la vittima finisce stordita a terra, quindi gli altri 5, che nel frattempo erano rimasti a guardare, lo accerchiano e si accaniscono su di lui, iniziando a colpirlo con calci e pugni al volto e alle costole, tanto da provocargli fratture multiple, poi curate all'ospedale San Timotio con un intervento chirurgico. Una notte di incomprensibile follia che è raccontata nelle pagine del fascicolo finito sul tavolo della procura di Larino, che si è chiuso con l'iscrizione nel registro degli indagati dei 6 presunti colpevoli.